Accorrete a lei. La tutta pura. 5 dicembre 1972. Figli di Letti. Venite e non vi sembri mai troppo ciò che fate per la vostra mamma celeste. Se voi conosceste i vantaggi spirituali, morali e materiali che vi derivano da questa devozione, la diffondereste con fervore e non essereste mai di invocare il suo nome. Maria è una creatura umana che Dio ha elevato alla più grande dignità, così da sorpassare in grandezza gli stessi angeli. La sua bontà eccezionale non va confusa con quella delle buone persone di questo mondo che, avendo un cuore tenero e compassionevole, si prodigano per gli altri. Il suo cuore è ripieno di Dio che le comunica, al più alto grado, la sua bontà. Chi trova una persona buona gode di stare con lei perché dalla bontà emana la felicità, come un frutto dal suo albero. Figli, sappiate che io, figlio di Dio, godetti della sua bontà che mi consolò il cuore nei momenti più dolorosi della vita mortale. Che cosa non potrà donarvi una mamma così buona, che ha potere di comando sul cuore stesso di Dio? Volete essere santi? Chiedete a lei la santità. Volete essere virtuosi? Avvicinatevi a lei che vi sarà maestra in ogni virtù. Volete saper perdonare? Venite accanto a lei. Andate ai piedi della croce e ascoltate le sue parole di perdono. Forse che i miei crocifissori le erano sconosciuti? No, erano per lei i miei fratelli. Ed ella mi supplicava per loro come per i figli prediletti. Se volete camminare sulla retta via e non perdere la speranza di arrivare in cielo, attaccatevi a lei, che ne è la porta. Chi potrebbe dire di amare il figlio se non ama la madre sua? Volete sapere se i vostri figli sono ancora buoni? Se sono recuperabili? Se torneranno presto alla fede? Provate a parlar loro della mamma celeste. Se non si ribellano, se ancora recitano la sua bella invocazione, non temete. Ella, la mia santa mamma, non li lascerà a lungo lontani da me. È grande il suo cuore, grande come il mare, e in esso può accogliere tutti. Quelli che piangono, che soffrono, coloro che hanno peccato e che desiderano riacquistare il primitivo candore. Ella è l'albero della vita. Io fui il primo frutto benedetto del suo seno, ma a tutti coloro che vogliono rinascere alla vita della grazia, vita divina, ella offre il suo seno, come abitazione e nutrimento. Accorrete a lei, la tutta pura. Chiamate attorno a lei i lontani, gli increduli, i sacerdoti, i religiosi, i bambini, dite a tutti, venite. I frutti della redenzione Dio li ha posti come dono nelle sue mani. Andate a riempirvi di questi doni. Ella vi preparerà. Vi rinvigorirà. Vi educherà perché possiate vivere il vostro cristianesimo come l'ha vissuto lei. Figli di letti. Se il pensiero di una madre così potente, grande, bella e buona vi entusiasma. Non dite che il vostro è fanatismo. È piuttosto saper apprezzare ciò che serve. È dar valore a ciò che vi è veramente utile. Ecco il motivo per cui vi ho parlato di lei. Dovete con gioia, con impegno e con fervore, prepararvi ad invocarla come l'immacolata concezione. Quella creatura cioè di cui neppure il più piccolo neo di colpa ha mai sfiorato l'anima. Guardatela negli occhi. Questa madre. E ditele di purificare i vostri. Così spesso rivolti verso il fango della terra. Guardate il suo cuore e donatele il vostro. Guardate le sue mani e lasciatevi congiungere le vostre in quell'amabile gesto che le mamme sollevano un tempo compiere verso i loro bambini. Sarà lei che vi insegnerà come pregare. Abbracciate con fede mia madre perché la vostra vita scorra in vera unità con lei. Unità di pensieri. Di affetti. Di azioni. Per avere con lei unità di gloria. Vi benedico. Figli. Con Maria. Vi benedico e vi amo.